La trasmissione dei nostri trincia non teme alcun tipo di impatto con la roccia o con lo scoglio affiorante, per cui non ha assolutamente bisogno di rulli dietro. Tra l'altro il rullo, diciamo in termini costruttivi, è una bestialità mettere un rullo dietro una macchina del genere, per un motivo molto semplice. Nel momento in cui c'è l'ostacolo, il rullo si alza nel momento in cui la rotante ha già superato la pietra, per cui è una cosa totalmente inutile. Inoltre chiude la macchina da dietro il rullo, per cui impedisce lo scarico. Impedendo lo scarico da dietro, la macchina scarica in avanti. Chiaramente in avanti c'è l'operatore e c'è il trattore, quindi li ho nominati nell'ordine di importanza, cioè innanzitutto c'è una persona e poi c'è anche un mezzo. Quindi è preferibile che in avanti, diciamo, che l'uscita sia nella parte posteriore. E quindi giustamente non ci può essere nessun riferimento, nessun tipo di rullo, ruote o quant'altro.